Dottoressa, le infrastrutture portuali di Gela vivono un periodo di assoluta sofferenza. Il nostro porto rifugio, che potrebbe essere la porta per il Mediterraneo, un punto di snodo importantissimo, ormai da decenni è insabbiato. Quali possono essere le soluzioni? Il porto di Gela è un porto regionale e quindi tutta la competenza sta in capo alla regione che credo dialoghi anche con l'amministrazione locale perché senza questi dialoghi istituzionali non si va da nessuna parte. Ho avuto modo di parlarne, di approfondire, di chiedere anche al sindaco di Gela, sollecitando anche una presa di posizione per non rimanere da soli ma fare sistema portuale e proprio oggi il vice sindaco ha annunciato che la giunta ha già deliberato la richiesta alla regione di farsi promotrice con il nostro governo nazionale affinché Gela venga accorpata al porto di Augusta e quindi anche al porto di Catania. Comandante, la vostra presenza qui è assolutamente oggi determinante, il vostro rapporto con gli ormeggiatori è un rapporto di assoluta simbiosi? Sì, non soltanto con gli ormeggiatori ma anche con tutti i servizi tecnico-nautici che orbitano intorno al porto e intorno alla capineria. Mi piace sempre dire ai servizi tecnici, ai piloti, agli ormeggiatori e quant'altro che sono i miei occhi in porto, quindi è un lavoro che viene fatto in simbiosi con la capineria, per la capineria e come si appartenessero anche alla capineria. Noi abbiamo scelto Gela per due ordini di motivi. Il primo, come dicevo nel corso della relazione, lanciare un faro su una realtà attanagliata dalla crisi e quindi testimoniare la vicinanza di questa associazione, di questa categoria professionale ai colleghi di Gela. La seconda, noi riteniamo che Gela abbia la potenzialità per riprendersi e quindi in un certo senso attivarci coinvolgendo istituzioni, parlamentari, ministeriali, imprenditori al fine di poter ridare vita ad una realtà, diciamo così, in sofferenza. Noi in questo momento di crisi ci siamo messi d'accordo con l'associazione e il buon Guidi, qua Presidente vicino a me, ha accolto il mio invito, il mio desiderio di portare l'associazione e quindi dare l'ustro a livello nazionale di questi lavori assembleari che di solito si tengono nei porti con carature anche europee, piene di strutture, pieno di economia, in un porto che non è più un porto, è un fantasma. Quindi continuo a ringraziarlo perché ha portato i lavori assembleari, non dimentichiamoci che l'oggetto e il servizio di ormeggio, la sfida europea, non è il porto di Gela, però siamo stati bravi, è stato bravo anche lui, a spostare l'attenzione sulla crisi che sta attanagliando Gela. Quindi il nostro compito era questo, sfruttare i lavori assembleari, farli, portarli qua, farli visitare la nostra città e posso dire nel corso dei giorni passati è stata molto apprezzata. Il faro è stato acceso, adesso cosa accadrà? E questo sarà, noi continueremo ancora nella stessa direzione, ma avremo bisogno anche di appoggio. Ci sarà, io credo che sarà presa ad esempio, ci sarà altra gente come me che sarà convinta che prendendo iniziative come queste potrà far rimanere accesa quella luce.